sabato 19 dicembre 2020 sant'anastasio dal libro dei giudici in quei giorni c'era un uomo di sorea della tribù dei daniti chiamato monoak sua moglie era sterile e non aveva avuto figli l'angelo del signore apparve a questa donna e le disse ecco tu sei sterile e non hai avuto figli ma concepirai e partorirai un figlio ora guardati dal bere vino o bevande inebriante e non mangiare nulla di impuro poiché ecco concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà rasoio perché il fanciullo sarà un nazireo di dio fin dal seno materno egli comincerà a salvare israele dalle mani dei filistei la donna andò a dire al marito un uomo di dio è venuto da me aveva l'aspetto di un angelo di dio un aspetto maestoso io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome ma mi ha detto ecco tu concepirai e partorirai un figlio ora non bere vino né bevande inebriante e non mangiare nulla di impuro perché il fanciullo sarà un nazireo di dio dal seno materno fino al giorno della sua morte e la donna partorì un figlio che chiamò sansone il bambino crebbe e il signore lo benedisse lo spirito del signore cominciò ad agire su di lui dal salmo 70 canterò senza fine la tua gloria signore si tu la mia roccia una dimora sempre accessibile hai deciso di darmi salvezza davvero mia rupe mia fortezza tu sei mio dio libermi dalle mani del malvagio canterò senza fine la tua gloria signore sei tu mio signore la mia speranza la mia fiducia signore fin dalla mia giovinezza su di te mi appoggiai fin dal grembo materno dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno canterò senza fine la tua gloria signore verrò a cantare le imprese del signore dio farò memoria della tua giustizia di te solo fin dalla giovinezza o dio mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie canterò senza fine la tua gloria signore dal vangelo secondo luca al tempo di erode re della giudea vi era un sacerdote di nome zaccaria della classe di abia che aveva in moglie una discendente di aronne di nome elisabetta ambe due erano giusti davanti a dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del signore essi non avevano figli perché elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni avvenne che mentre zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al signore durante il turno della sua classe gli toccò in sorte secondo l'usanza del servizio sacerdotale di entrare nel tempio del signore per fare l'offerta dell'incenso fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso apparve a lui un angelo del signore rito alla destra dell'altare dell'incenso quando lo vide zaccaria si turbò e fu preso da timore ma l'angelo gli disse non temere zaccaria la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai giovanni avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita perché egli sarà grande davanti al signore non berrà vino né bevandi inebrianti sarà colmato di spirito santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di israele al signore loro dio egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di elia per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al signore un popolo ben disposto zaccaria disse all'angelo come potrò mai conoscere questo io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni l'angelo gli rispose io sono gabriele che sto dinanzi a dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio ed ecco tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno perché non hai creduto le mie parole che si compiranno a loro tempo intanto il popolo stava in attesa di zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio quando poi uscì e non poteva parlare loro capirono che nel tempio aveva avuto una visione faceva loro dei cenni e restava muto compiuti giorni del suo servizio tornò a casa dopo quei giorni elisabetta sua moglie concepì e si tiene nascosta per cinque mesi e diceva ecco che cosa ha fatto per me signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini